E' da un presepe all'altro, Polifemo ovviamente vuole dare spazio a tutti quegli eventi natalizi fortemente legati al territorio. Qui siamo a Mottola, una serata davvero fredda ma è il calore, la passione che riscalda i figuranti e riscalda la gente, la popolazione che si sente vicina all'evento. Siamo con una delle organizzatrici Angela Filomena e allora una bella partecipazione, la sfida al freddo in nome del Natale. Sì, questa manifestazione nasce appunto dalla passione per la tradizione natalizia, l'organizzatore è mio padre Angelo Filomena. Tra un po' lo sentiremo. Con la collaborazione anche dell'Associazione Canzione Motorese e alcuni dei cittadini motoresi che ci aiutano nella realizzazione della manifestazione come Mario Affortunato, Renato Carotenuto e anche tutti gli altri cittadini motoresi anche del centro storico. Con la partecipazione anche del contributo comunale e tutti i cittadini di Mottola che ci hanno contribuito alla realizzazione appunto. Intanto diciamo dove si snoda, dove si svolge questo presepe vivente? Questo è il centro storico di Mottola, chiamato anche Schiavonia. È un percorso che appunto attraversa il centro storico proprio nella parte centrale. Abbiamo varie postazioni, abbiamo realizzato la postazione della pescheria, della falegnameria, i bracieli che appunto vedremo più in là. E come preannunciato, Angelo Filomena che è proprio la figura storica, il padre storico diciamo così di questo presepe. Tanta passione, tanto impegno, tanta fede. Eh sì, tanta fede. La nostra peculiarità è quella di portare gente nel centro storico, di rivalorizzare il nostro bellissimo centro storico che è molto sottovalutato. Ogni anno ci mettiamo tanta passione, io con i miei amici, come dicevo prima, l'amico Mario Affortunato e Renato Garotenuto. Dedichiamo tempo e anche denari per portare avanti questa iniziativa. C'è una grande organizzazione, un grande lavoro alle spalle perché ora noi vediamo tutto bello e pronto e ci godiamo questo presepe vivente. Però chiaramente c'è un lavoro retrostante. Molto, molto lavoro da dedicare, togliendo tempo alla famiglia ma al lavoro. Sì, al lavoro. Tanto impegno, tanta maestranza per il paese di Motto, tanta passione. Beh, è bello perché si respira, proprio lo notavo, noi avevamo appena con il mio operatore parcheggiato la macchina e sentendo i suoni natalizi, sentendo gli odori, vedendo questa partecipazione ho detto beh, è Natale. Bene, ci avviamo in questo percorso, in questo ITER o Tour che dir si voglia. Allora vediamo un venditore che a gran voce reclamizza i suoi prodotti. Legumi, funghi, ortaggi, quello che prima era la vecchia drogheria dove trovavi di tutto, tra l'altro, sì. Con l'entusiasmo di questi ragazzini motolesi che proprio rappresentano l'originalità dei vecchi mercati. Allora questo mercante che urla, eh? Questo giovane mercante. Eh sì, perché dobbiamo, diciamo, dobbiamo trasmettere la nostra voce a tutte le persone. Invitare ad acquistare? Invitare ad acquistare. Ora dici un po', questi cosa sono? Funghi? Di pezza. Di pezza? Vabbè, diciamo funghi. Questi altri funghi e i vari prodotti. C'è il riso, c'è il riso e ci sono anche vari tipi di frutta come il melone. Eccoli qui, vedete? I banane. Come era duemila anni fa, lo è anche oggi. Vediamo dei frutti di mare, dei granchi, delle conchiglie, ovviamente le fabonsenasse. Pesce, pesce vivo tra l'altro, da questa parte possiamo vedere il pesce proprio portato qui, vivo. Ecco, vedete, vedete, si muovono, non sono chiacchiere, si muovono. E quindi si sta cercando di ripercorrere, di riportare quelle che erano le antiche, gli antichi mestieri che poi, diciamocelo, sono tuttora attuali perché la frutta, il pesce, grazie a Dio si vende anche oggi. Sì, 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 riportare questa gente qua, riscoprendo antichi mestieri, anche antichi valori che si vanno perdendo. Perché, come diceva lei prima, sì, il lavoro, c'è tanto lavoro da dedicare qua, però lo facciamo con passione per il nostro paese, nella speranza che col tempo arrivino anche i frutti. E' anche bello vedere i bambini, i ragazzini impegnati. Cerchiamo di coinvolgere anche i ragazzini, cioè le scuole. Le scuole, le associazioni, perché ha gente, adulti, meno giovani, adulti e meno adulti. Ma ci sono varie specialità culinarie che fanno parte della tradizione. E qui ero preso per la gola, per così dire, dalle pettole e mi incuriosisce per dire di cosa si tratta. Sono orecchiette. Sono orecchiette, sì. Orecchiette fritte, salate da mangiare. Non le sapevo fritte. Le assaggiate. Assaggiamo perché dobbiamo dirlo in diretta. Eh, se sono buone. Ottime, croccanti, croccanti al punto giusto e quel sale che le insaporisce. Beh, è una tradizione. Sì, è antica. Queste invece sono in forma diversa perché... Queste sono focaccine. Ah, ecco. Le pettole zuccherate. Io prima che riprendesse l'amico Giovanni ho assaggiato quelle, le tipiche pettole. Ora mi cimenterò nelle focaccine. Nella nostra tradizione, in dialetto molto lese, sono lipped cad. Ah. Che di solito vengono farcite col pomodoro, con la ricotta forte. E noi stessi eravamo presentate così come prima volta per vedere anche se avevano un... Assaggiamo. Proviamo. E vedete, la mia è una trasmissione, una libertà di informazione, che vuol dire anche così essere insieme a tanti e divertirsi, assaporare il gusto genuino che Mottola e il suo presepe vivente ci sa dare. E parlando di maestranze, vedete la signora che sta preparando queste orecchiette. Beh, è un'antica tradizione. Sì, è un'antica tradizione. Facciamo le orecchiette e le orecchiette fritte. Immagino, signora, che lei nel periodo natalizio a casa sarà super impegnata dalla mattina alla sera per i grandi cenoni, per i grandi eventi, quando è bello vedere tutta la famiglia unita, i nonni, i nipoti, i figli e quant'altro. E' vero. Buon lavoro, signora. Davvero da una specialità all'altra e sono proprio quelle cose stuzzicanti. Cosa ho di fronte a me? Delle bruschette con olio sopra. Sono quelle proprio, mancherebbe un pomodoro e poi sarebbero, ma è proprio il sapore. Beh, una tradizione, ecco ora al di là delle battute, di quello che stiamo dicendo, come ti senti ad interpretare il tuo ruolo, ad essere una delle figure di questo presepe? Beh, sinceramente è un ruolo molto importante, anche che diciamo è un semplice dare una fettina di pane, è una cosa molto importante e bella e ho accettato subito l'invito della signora Rosa. E vedete, si prosegue, c'è da dire che qui c'è l'imbarazzo della scena. Eh sì, sì, sì. Questo è sempre con olio? Sì, sì, sempre con olio. E qui vedete nella fase in cui vengono proprio abbrustolite. Oggi c'è il tostapane, all'epoca, però diciamocelo sinceramente, il sapore della fornacetta, del carbone che arde e che così abbrustolisce, rosola il pane, non è di tutti i giorni. Sì, è diverso, la tradizione è sempre la tradizione. Quando voi vedete i presepi, non quelli viventi, ma quelli rappresentati, raffigurati, quelli in ceramica, no? E in argilla, nei vari materiali, proprio una delle caratteristiche è vedere le singole, come dire, maestranze che realizzavano i vari prodotti alimentari. Beh, una cosa è vederli così, non dal vivo, attraverso delle statuette, e un'altra cosa è vederle proprio dal vivo, perché si respira proprio la fragranza, si respirano tutti, si assaporano tutte le caratteristiche. E allora, qui cosa abbiamo? Le frittelle e le orecchiette fritte. Ecco, le frittelle le conoscevo, ma come dicevo poc'anzi, le orecchiette fritte sono una cosa nuova e ben gradita. Sì, 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 è vero, è una tradizione del nostro paese, vengono anche condite con altri alimenti, come le cime di rapa, la salsiccia, è una tradizione nostra. Ecco, e poi è bello perché questi prodotti che vengono realizzati, al di là di dare il giusto folklore al presepe vivente, ma in un certo qual modo valorizzano anche le tradizioni popolari, valorizzano quelli che sono i prodotti tipici del territorio e quindi in questo modo lo si fa crescere. Sì, certamente lo si fa crescere, è quello che noi pensiamo di fare anche per il prossimo anno, coinvolgendo anche più pastifici locali nel produrre e portarci anche i loro prodotti per poter, nel contesto, valorizzarli. Minando, inoltrandoci tra i vicoli, l'amico Giovanni Rogante, che ora intervisteremo, l'anima, proprio come organizzatore di eventi, la sua arte e cultura, la sua associazione, mi ha indicato, io non sono un grande conoscitore del posto, un esperto di tradizioni, diciamo, non sia modesto, un cultore e quindi un esperto, di tradizioni locali. Ecco, di tradizioni locali, ecco, Bottola ha tanto da offrire. Eh sì, io penso di sì, ha tanto da offrire con la collaborazione anche dei cittadini stessi, che dovrebbero, diciamo, incentivare più la cultura, le tradizioni che sono di Bottola, cioè di tutto quello che può rappresentare, diciamo, dei valori tradizionali. Qui vedevamo i prodotti locali, vedevamo anche degli antichi mestieri, ora vedremo, mi interessa qui vedere una donna che sta lavando i panni, con il famoso stricaturo, ma questa è una parentesi, dicevo, ecco, in questo modo si valorizzano le tradizioni ed è bello riscoprire le proprie origini. Sì, magari continuando, diciamo, anche tutti gli anni, come già stiamo vedendo, però magari si può fare ancora di più. E a Bottola non c'è arte e non c'è cultura se non c'è Giovanni Rogante. Giovanni Rogante è presidente dell'Associazione Arte e Cultura, tanto amore per il territorio, tanto attaccamento alle proprie origini. Intanto bisogna dire che quest'anno non ho fatto più la rassegna di pittura, l'anno scorso abbiamo chiuso la cinquantesima edizione, un grosso successo, come tu sai, è bene ritirarsi da campione. Ma dobbiamo ritornare in campo perché Giovanni sei giovanissimo e Bottola ha bisogno di te. Troppo bene, ti ringrazio che sono giovane, però insomma gli anni ci sono, però ho tanta voglia di fare qualcosa per Bottola perché io voglio bene a Bottola, alle tradizioni di Bottola, sono mottolese di puro sangue, come si dice. Poi Giovanni, scusami, è un Natale povero senza la rassegna di pittura. In effetti ho avuto tante lettere, tante telefonate, perché tutti mi chiedevano perché non si è fatto la rassegna. Quando uno entrava dentro Bottola, già dal bivio, già vedeva questa atmosfera natalizia, quest'anno invece non c'è. Postermo a recuperare la Pasqua. Chi lo sa, tutto è possibile. Io lancio l'idea. Tutto è possibile nell'impossibile, diceva la Basiera, quindi chi lo sa, speriamo. Comunque, intanto bisogna ringraziare tutti coloro i quali hanno queste iniziative, dico nel centro storico oppure in altre occasioni abbiamo l'altra manifestazione che hanno fatto giù alla Serpentina, l'altro, diciamo, per esempio vivente. Quindi bisogna dire grazie veramente a tanti, tanti sacrifici che vengono fatti per poter realizzare questa iniziativa. Basta vedere questi ragazzi che stanno sotto il freddo, però stanno qua e lo fanno veramente con amore. Grazie. E mi sposto, parlavamo di antichi mestieri, vedo una ricamatrice. Che specialità è? È il punto a croce. Io ricordo i miei nonni, i miei zii che mi parlavano. E poi qui, questo è un mestiere che oggi non c'è più, oggi esiste la lavatrice, esistono vari mezzi, però questo era il bucatono e lo stricaturo. Cosa è? Qui c'è uno stricaturo, ecco vedete, detto stricaturo. E qui si lavorava olio di gomito per pulire i vari panni, strofinarli, stricarli, detto in maniera un po' non molto corretta nella lingua italiana, ma rende l'idea. Beh, oggi tu sei giovane e sei una ragazzina e sicuramente queste cose non le avrei più viste in casa tua, però con queste tradizioni le riscopri. Sì, c'è, ora esiste la lavatrice, ci sono molti... Però, forse prima venivano più puliti. E qui cosa si vendono? Stiamo stendendo i panni, visto che lei lava, io stendo e piego i panni. È un angolo, diciamo, più moderno, l'oggettistica. Sono davvero dei prodotti, scusate, dei manufatti che rendono l'area natalizia. Sì, signora, vi saprei indicare meglio di me come vengono realizzate con quei tessuti, quelle che erano prima le decorazioni si facevano in casa, con le piccole cose natalizie, i cartoni, le stoffe, ora le realizziamo più belle, però si fanno. Ecco, allora, ce ne illustri qualcuna? Perché qui c'è tanto lavoro, tanto artigianato. Sì, sono tutte cose fatte da me, sono fatte artigianalmente, io cucio i vestiti, compro i tessuti, cucio i vestiti, mi dipingo le testine, mi realizzo le bamboline. E poi dalle bamboline faccio... Proprio belle, vedete? Questo uno lo mette anche in cucina, in un... Sì, sono dietro porto, sono dietro porta, si possono appendere, e si arreda la casa, sono d'arredo. E creano un clima natalizio festoso e gioioso. È bello vedere che ci sono anche giovani, nella fattispecie sono dei ragazzi, degli scout, che si dilettano nel fare le orecchiette, in genere è una cosa che fanno le nonne, però certe tradizioni, vedete, è bello vedere i ragazzi coinvolti. Sì, 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 quest'anno dobbiamo ringraziare anche gli scout per la loro collaborazione. Ad agio ad agio si incomincia a muovere, i giovani incominciano a partecipare a queste iniziative. Speriamo che col tempo duri, ed è bello anche vedere come alcune ragazze riescono a carpire i segreti delle nonne per poter fare le orecchiette e roba varia. Beh, tu sei un giovane, quanti anni hai? 18 E ti dai da scout collauli per la bella riuscita di questo presepe. Certo, sì, noi da scout ci mettiamo sempre all'opera per valorizzare appunto il nostro territorio perché diciamo per le belle occasioni non manchiamo mai. Tu essendo una ragazza sei più pratica. Beh, certo, sì. Anche lui sta. Beh, sì, ci aiutiamo a vicenda. Beh, secondo voi abbiamo visto tanti sapori, abbiamo visto tante prelibatezze, poteva mancare il vino? E qui, eccoci con l'osteria. Mi versano questo bicchiere di vino. Devo dire che si vede proprio, io non ne capisco, il mosto, no? Cioè, vedo, lo vedo non solo, ecco. Ecco, vedete, lo vedo. Cosa c'è dentro ragazzi? Sono pezzi di arancia, pera e mela. Aromatizzato il vino con chiodi di garofano e cannella. Te ne intendi? Sì. È una passione o ti hanno istruito? No, 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 mi hanno istruito. Una buona istruzione, buona istruttura. Beh, brindiamo a Mottola, al presepe qui in Schiavonia e a questi organizzatori che mettono tanto del loro tempo, del loro danaro, del loro impegno. E mentre degustavo questo bicchiere di vino con i frutti, un vino caldo, diceva giustamente l'amico, riscalda questo vino il corpo e l'anima. È giusto, serve appunto per questo, questo vino abbiamo fatto per questo. Certo che avete davvero un coraggio perché stasera il clima è bello freddo. Rigido. Quando noi siamo venuti a registrare stavamo a state, mi dicevano affrettatevi perché fa freddo e me ne sono reso conto. Sì, molto fredda, poi c'è molto vento, quindi abbiamo trovato una serata dove il vento non è proprio dei migliori, però ce la facciamo. E tra un'escursione e un'altra, perché così voglio definirla, tra i vari vicoli di Mottola andando a ripercorrere il presepe vivente, ora ce ne andiamo in pubblicità. E l'arte ovviamente non poteva mancare, abbiamo una giovane pittrice che si diletta nel completare la sua tela. Salve, mi piace molto dipingere, dipingo per hobby, infatti non frequento alcuna scuola artistica. Ma la vera arte, secondo me, è quella che abbiamo dentro, a prescindere dalle accademie, dalle scuole specializzate. Se c'hai il talento dentro, lo manifesti, lo estrinsecchi. Sì, lo penso anch'io. E un'altra bottega, cosa si vende qui? Si vendono candele. Si vendono candele. Candele rosse, ovviamente, è il simbolo del Natale, proprio, vedete, già quando inizia il periodo natalizio, nei negozi, la prima cosa che si vede è il rosso, il rosso proprio il colore natalizio, come queste candele. E abbiamo un altro interprete di questo presepe vivente, Mario. Mario, qual è il tuo ruolo? Cosa fai? Ehm... Uvrer, batto. Batti il ferro? Sì, a me mi piace tanto perché ci sono tanti lavori. Ecco, vedete, Mario realizza questo. È proprio il colui il quale batteva il ferro, ora non si vede più, ma era un mestiere tipico dell'epoca. E ancora altri prodotti. Sentivo taralli ai cinque cereali, poi c'è chi batte il pesto. Sì. Pesta il pesto. Pesta il sale, perché all'epoca si pestava il sale, le fave. E quindi? Io lo impasto. Io impasto la pasta ai cinque cereali. E io magari, permettete, lo assaggio. A prova di buon gustaio. E lì, invece, il fuoco sempre è il sale. È il momento delle focaccine fritte. Vedete? Qui c'è la pentola con l'olio bollente e le focaccine, qui ancora pasta cruda, vengono immerse. Sì, certamente. L'olio bollente, facciamo le focaccine. Bene, se aspettate le mangiate calde calde. Già stasera ho ecceduto. Figuratevi cosa diranno a casa, diranno un conduttore che mangia mentre lavora. Beh, io sono un conduttore nature, dalla parte della gente, per vivere insieme certe sensazioni. Cosa ne pensa? Parliamo con vari visitatori, vari cittadini. O lei è una delle... Sono una caratteristica loro. In veste di amica, di visitatrice, cosa ne pensa? No, no, è una bellissima festa, questa che si fa ogni anno. Anche ieri sera è stato bello giù alla serpentina. No, no, mi piace. È un'occasione per riunirsi, stare tutti insieme e festeggiare il Natale, così. Ci sono anche dei giochi pirotecnici, dei giochi di fuoco. Devo dire che queste ondate di calore, questa sera, non possono che farci bene. Sì, queste sono le fochiste e artisti di strada di Mottola. Sono ragazze che da tempo coltivano questa passione per i giochi di strada. Che all'epoca, per esempio, c'era. Che oramai coltivano ben pochi, però loro hanno voglia di crescere. Ora le intervistiamo. E allora, ragazze, sperando non mi bruciate. Più di qualche politico tarantino, qualche parlamentare, vorrebbe stare al posto vostro per bruciarmi. Ma grazie a Dio, voi non siete così. Beh, una grande passione, anche una certa perizia, perché non è semplice. Col fuoco o sei capace, o lo conosci, o ti fai male, ti bruci. Beh, certo. Richiede tanto allenamento, ovviamente, come ogni cosa, come ogni passione, ovviamente. Com'è nata questa passione? E ora ci avviamo al momento più suggestivo, più toccante, perché quando chiaramente si parla di presepe, si parla di natività, beh, il pensiero, qual è il primo pensiero? Quello che va, ovviamente, alla grotta. E quindi a Maria, a Giuseppe, a Gesù, bambino. E io mi addentro in questa umile grotta, che è proprio il segno, il significato del Natale. Gesù, che non si veste da re, ma si veste da poveretto, per così dire. Proprio per insegnare al mondo l'umiltà. E qui abbiamo, in attesa che nasca il bambino, vedete ancora la culla e spoglia, però abbiamo già pronti Giuseppe e Maria. Giuseppe, ovviamente, il papà di Gesù, il falegname, un ruolo importante il tuo. Sì, un ruolo. Indubbiamente sei anche un po' emozionato, no? Sì. Primo anno che fai questo? Primo anno, se non mi è mai capitato. Come ti è venuta, questi sono stati gli amici, a invogliarti? Mi hanno detto di provare a farlo, l'ho fatto. E qui abbiamo Maria, una giovane interprete della Madonna, che già è pronta, vedete, ha preparato tutto, in attesa che arrivi Gesù bambino. Sei emozionata? Di qualcosa, non aver paura, è una bella soddisfazione per te. E' emozionata, la comprendiamo. Guardate però come è stata allestita la culla, tutta in legno, la paglia, vedete? Qui c'è dell'ovatta e qui Gesù dovrebbe essere, dovrebbe così essere posizionato e così essere adagiato e quindi cullato, è il caso di dire. Ma vedete, ci sono anche delle guardie, dei giovani guardiani, li vedete come sono ben armati. Quanti anni hai? Undici. Ti piace questo ruolo? Sì, è il primo anno che lo faccio e mi sono già appassionato. Quindi oramai lunga tradizione, pensate, come ti chiami? Francesco. Francesco ha undici anni e tra decenni e decenni vedremo Francesco in un ruolo sempre più grande. Forse anche nel ruolo di Giuseppe una volta. Vedete come è ambizioso? Bravo, bravo. E qui ne abbiamo un altro. Come ti chiami? Antonio. Antonio, anche tu un guardiano, sei a guardia del presepe di Gesù Bambino che presto nascerà. Antonio, ti piace questo? Ti vedo un po', sei emozionato, infreddolito soprattutto. È la prima volta. Domani a scuola? Sì. Vedete il sacrificio, questi bambini, domani devono andare a scuola e nonostante però vogliono dare il proprio contributo. Beh, è una bella manifestazione perché poi io ho 44 anni, non sono un bambino, sto invecchiando, però ci si sente bambini, ci si sente quel sapore antico, il sapore del Natale. Oggi Natale in molti casi non si respira, è un qualcosa di commercializzato, c'è la corsa ai regali, ma non al regalo per dare qualcosa di proprio a un'altra persona, ma quasi come se fosse una cosa che si deve fare e basta. E invece qui si scopre proprio quell'animo puro, quell'animo del bambino, ecco, vedere questi bambini che fanno questo sacrificio. Beh, indubbiamente è stata una bella manifestazione, molto partecipata, molto sentita. Sì, io ringrazio tutti per la partecipazione, ragazzi, amici, sono venuti numerosi. Grazie, grazie, grazie. Riuscita perché è semplice, perché il Natale vuol dire semplicità. Noi usiamo molto l'umiltà e la semplicità, cioè il nostro motto è essere umili e semplici nelle nostre cose. Vorrei salutare... Facciamoli avvicinare, gli amici... Gli amici, collaboratori... Mario, Renato... Che con noi hanno collaborato per la riuscita della manifestazione. Speriamo di portarlo avanti la seconda volta e il prossimo... Bene, vicino alla Natività, agli amici, io voglio innanzitutto ringraziare Mottola per questa bella iniziativa. Si conclude qui Polifemo ed è l'occasione per ringraziare voi tutti, amici da casa, per l'affetto, per il coraggio che dimostrate nel seguirci. Coraggio perché Polifemo è una trasmissione libera, è una trasmissione che molte volte si mette conto, molte volte, tante volte, sempre, si mette conto i poteri forti. Ma vedere il seguito, il successo, la partecipazione, beh, questo ci rincuora. Noi siamo dalla parte della gente, siamo dalla parte di questa comunità che vuol difendere se stessa, che vuol riscoprire e valorizzare le tradizioni. Questo è Polifemo, ma sono emozionato anch'io, non vi dico altro. Che il Natale vi porti quelle soddisfazioni innanzitutto personali, quelle soddisfazioni che sognate, che agognate, che avete nel vostro cuore. Auguri a tutti un felice Natale. Polifemo non si ferma, ci vedremo anche il 30 e che dire, non è venerdì se non c'è Polifemo. Polifemo, l'informazione libera della città. Buonasera.